Possiamo dire che un giovedì all'insegna della cultura concludiamo un anno importante, questo 2022, parlando ancora una volta in senso lato di cultura, di musica e anche un appuntamento importante con tutta la redazione del moderatore.it ma in particolare ci sarà la presentazione di questo libro che è Canto Anima dalla professoressa, presentata dalla professoressa Irena Catarella, una siciliana che mette in piedi un'operazione di pubblicazione molto importante dove le poesie vengono raccontate in una modalità molto nuova, originale, utilizzando ormai i sistemi di hashtag multimediale che il nostro mondo globale ci impone, dobbiamo essere alla portata di tutti e soprattutto molto moderni nel concetto vero e proprio di esprimere questa raccolta di poesie. Insomma, una giornata molto importante dove ci sarà il contributo di artisti, giornalisti e scienziati di livello internazionale, fra questo Francesco Alberoni, Vittorio Sgarbi, Salvo Nugnes, Silvana Giacobini, Maria Rita Parsi, Alessandro Meluzzi, Pippo Franco, Katia Ricciarelli, Marzia Risalto, Marco Columbro, Antonella Cappuccio Muccino, Roberto Villa e naturalmente anch'io da padrone di casa qui alla Pana Studio, un giovedì importantissimo dove poi concluderemo la nostra serata anche grazie all'intervento di Città Metropolitano, un concerto a Isola delle Femmine con un omaggio a Enno Moricone. Insomma, un giovedì che rappresenta un po' tutto quello che è il percorso culturale di questa nostra società editoriale che ancora una volta vuole dimostrare a se stessa ma anche alla nostra Sicilia che si può fare cultura a 360 gradi sempre promuovendo quelle che sono le iniziative di siciliani, siciliani doc, siciliani che meritano avere uno spazio importante in una vetrina che è quella della nostra Sicilia.